Cari amici dusteristi, qui dal Storio di Ginevra 2019 c'è un'importante novità per voi, una serie speciale della Duster, proprio qui alle mie spalle. Si chiama Tech Road e ha tante piccole novità molto interessanti, a partire dalla colorazione, questo rosso ma anche grigio, e poi tanti dettagli come questi nuovi cerchi diamantati con il logo rosso Dacia al centro. Tutta nuova e anche dentro, mi spiego, ci sono nuove tonalità per i rivestimenti. Vieni Christian, ti faccio vedere, perché all'interno anche qui domina questo motivo rosso. Lo vedete su questi sedili, hanno questa nuova colorazione che riprende un po' anche il tartan che si vede sulle Volkswagen GTI e poi rosse sono le bocchette e questa cornice in basso sul cambio. Per il resto tutto rimane invariato. La nuova Dacia Duster Tech Road però offre una dotazione tecnologica particolarmente ricca, perché ha tutto di serie. Quindi dalla telecamera a 360 gradi per le manovre, tutti gli ADAS presenti sulle versioni più lussuose della Duster, quindi per esempio l'ingresso senza chiave, piuttosto che il Media Nav Evolution compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, piuttosto che il sistema che rileva l'angolo cieco negli specchietti e quindi segnala che un'auto sta arrivando. E poi altra novità su questa nuova Dacia Duster Tech Road è proprio l'introduzione di nuovi motori sotto il cofano. Sono benzina, sono motori mutuati dall'alleanza Renault-Nissan e quindi si tratta del 1.3 TCE Turbo da 130 CV, ma anche da 150 CV. Le versioni 4WD fanno sapere arriveranno a fine dell'estate 2019. Per chiudere però un'altra interessante curiosità, cioè che questo allestimento super ricco, super rifinito, arriva anche su altri modelli della gamma Dacia, come la Sandero, la Logan MCV, la Loggi e la Docker. E voi? Che cosa ne pensate della nuova Dacia Duster Tech Road? Vi piace? Vi stuzzica l'idea? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. E come sempre non andate via, continuate a seguirci qui dalla nostra diretta live dal Salone di Ginevra 2019. Ciao!